A che punto avrò sbagliato strada? Guido, è bravo Guido, che stai preparando, qualcosa di bello? Guido, Guido, dove corri, disgraziato? Guido, puoi salire, o no? Vieni qua, buffone. Ah, allora è una parte che devo fare, mi ha preso per una delle tue... Guido. Anche perché insomma mi creda io andare avanti così non ce la faccio più, questo è un panicovi. Io definitivamente...